Quando Sam venne a chiedermi aiuto, non intendevo certo rifiutarglielo. Era sempre stato un lupo solitario e aveva bisogno di ricordare cosa vuol dire correre dei rischi per qualcuno a cui tieni. Dopo essersi divertito al monumento, Sam andò alla White Box. I ceffi che l'avevano rilevata avevano già ottenuto quello che desideravano e stavano portando via tutto. Ma a lui non importava. Lui voleva entrare. Purtroppo una struttura di contenimento MP a doppia parete non ha molti accessi. Ma a lui ne bastava uno. Non lo sapeva una struttura di prodigio. Allora Vic, come faccio ad entrare? Cerca una struttura industriale di ricircolo dell'aria sul lato dell'edificio. Aprite un varco e cerca le attrezzature di monitoraggio al piano di sotto. Accedi alle riprese video e potrai trovare l'obiettivo seguente. Le ultime parole famose. Grazie a tutti. 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 Mi prego, aiuto! No, hang up and then die the rock. Sì, da mesi ho capito solo che si tratta di un progetto. E' qua tua che parlavi con i neri. Non mi poter guardarlo. Non era abbastanza affascinante? No. Cosa è il posto? Jack, mette i primi. Lo faccio! Cazzo! Figlio di puttana! Non so, non so, non so, non so. No, che si è qui? Qua le dimenticato? No, che se fai qui! No! 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 Ah Ah Piatti sedici Un sacco per cento di para impensato Qualunque cosa significa Chi pensa a lui? Quando daremo il via al piano strano è comprata a lui con la squadra E il settore è pulito? Sì, abbiamo controllato due ordini Non vuoi dare grado a chiara? Perché no? Robertson non ha impartito altri ordini Ehi! Oddio! Oh merda Dobbiamo stare attenti Guardi sei Scienziati semplici Tecnici vecchi luata Personali assistenti Oh cazzo Dobbiamo stare attenti a sparare in questo posto Oh Oh cavolo, non ci cazzo Puttana! Quanti sono? Scienziati sedici Tecnici ventiquattro Personali assistenti a inservienti sei Tutti presenti all'appello oggi? Non sai fare di meglio Facci un taglio A cavolo A vacca Troverò il colpevole amico Te lo giuro Nasconderti Nasconderti servirà solo a farti ammazzare Vieni suoi Dai, chiunque tu sia La fase finale non è così male Non lo vedo Non lo vedo Quelli di gioco all'acqua Dai, pronto! Fatti vedere So che sei Sembra tutto a posto qui State attenti Non si sa mai Non fare il coniglio come gli altri nerd Ehi! Fatti vedere! Presto di guarda Non devi avere paura Fatti vedere! Vieni fuori! Abbiamo coperto tutta la white box! Non puoi farcela! Caricino, lo sento! Piantala, idiota! So che ci sei! Matt, c'è un problema qui! Oh, Cristo! Vuoi venire fuori ormai? Abbiamo circondato il laboratorio! Sam, so che sei nella white box. Posso aiutarti? Avvertimi quando raggiungi il sistema di Robertson. Hai sentito tutto? Che sorpresa! Adesso dovresti avere buone notizie su Sarah. Ti ho chiamato perché ce l'ho in linea. Fai in fretta. Papà! Sarah, sei tu. Stai bene? Mi hanno detto che eri morto, papà. Che eri stato ucciso. A me hanno detto lo stesso di te, tesoro. Io... Tempo scaduto, Sam. Grim. Dopo. Hai un lavoro da fare. Un lavoro da fare. Un lavoro da fare. Ho portato con la schede vacca. Un lavoro da fare. Ho trovato un lavoro da fare, ma a me sono ancora degli sparcati. Contra parte. Un lavoro da tutti gli sparcati. Un lavoro da tutti. Scandare. Sì, sì, sì io vado forza troviamo quel coglione è successo qualcosa di grosso qui sembra opera di Fisher avevo un amico all'aeroposto Fisher dove indicherò uccidendoti corri con i nerdo ora Fisher e a causa della perdita di casa al monumento rilevo qualcosa aspettate cosa è stato? rilevo dell'esternabilità per favore credi che sia così stupido? vieni fuori che strano questo tizio vuole facci fessi tenete gli occhi a... sei fattuto che ti fai? rilevo d'arrivo oh oh ah oh o o o Grazie a tutti. 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 Sono Sam. Forse non potrei ristabilirla da qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stanno bloccando la connessione. 40% fatto. Stai attenti. Andiamo! Muoversi! Grazie a tutti. Siamo al 60%. Avvicinate a tutti. Avvicinatevi e finitelo! Via! 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 Cristo, nasconderti non ti servirà! Non mi scappi, bastardo, sei morto! Non scappare, figlio di puttana! Ottanta per cento, ci siamo quasi. Andate, via, via! E' bloccato, andiamo a prenderlo! In forza! Inceputo! Tutto libero qui. Non posso dire altrettanto, qualcuno ha rintracciato il mio download, non posso chiuderlo e se mi trovano la mia copertura salta, è anche quella di Sara. Da dove proviene? Credo dalla Whitebox, primo piano. Secondo i progetti è un salone, forse un laboratorio per i test. Sì, ci sono passato, ci tengono le MP da testare. Forse dovrai usarne una, fai quello che devi ma blocca il collegamento. Bec, sono nella Whitebox e mi serve una mano. Una buona notizia. Infatti, dovrò attivare un MP qui dentro per tagliare un collegamento. Quanto è resistente la schermatura esterna? Più del culo di un sergente istruttore. Ogni apparecchiatura elettronica nell'edificio sarebbe fritta. Fuori, nessun danno. Quindi, fai quel che devi. Grazie, Vic. Forza, via, via, via! Forza, sai. Magherai per... Non puoi scappare, fatti vedere! Non servirai quei nerd nascondendoti, Fisher! Forza, coglioni, fai del tuo meglio! No, no, mi spavano solo! Pensi di poterti nascondere? Lo vedremo! Nessuna traccia! Qualcuno vede il bersaglio? C'è qualcun altro? Qualcuno vede il rischio di essere lì per sempre? Io credo di no! You're back! Oh! Oh! Il colpitone interruttore! Cazzo! Mazzate, forza! Cazzo! Chiedo rinforzi alla mia posizione! Rinforzi in arrivo! Resisti! Allerta! Nessun contatto! Ripeto, nessun contatto! Datemi una traccia! Dov'è la sfide? Non vedo il massaglio! Cazzo! In contatto! Nessuna traccia dello stile qui! Allerta! Prima o poi deve saltare fuori! Questo stronzo è morto! Il versaglio è vicino! Trovatelo! Cristo! Di nuovo! Lo stile è ancora nell'area! Dobbiamo trovarlo! Merda! Faccio fuori quel bastardo! Nessuna traccia! Nessuna traccia! Devo cercarlo finchè non lo farò io! Nel frattempo un analista elaborerà i dati di Robertson! Non è un problemaostante! È assicurato! È tutto! E tutto! Grazie a tutti.